Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni Divina Volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue braccia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te, tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, tu che sei amore, sia santificato il tuo volere. Venga il tuo regno, la tua volontà, come il cielo, sia gloria nei nostri cuori in terra. Donaci tre panni della vita, nell'infinito, eterno, immenso, tuo volere. Insegnaci il tuo perdono, insegnaci il tuo perdono, per essere il tuo perdono, ai fratelli. Donaci tre panni della vita, nell'infinito, eterno, immenso, tuo volere. Insegnaci il tuo amore, insegnaci il tuo amore, per liberarci dal volere umano. Padre, tu che sei l'amore, tu che sei il perdono, tu che sei la gioia. Padre, tu che sei la vita vera, padre, tu che sei la mia volontà. Padre, tu che sei la mia volontà. Padre, tu che sei la mia volontà. Dal libro di cielo, volume primo, capitolo 70. Ricordo in confuso che siccome domandavo spesso quando mi trovavo insieme con nostro Signore il dolore dei miei peccati e la grazia che mi perdonasse tutto ciò che di male avevo fatto e delle volte giungevo a dirgli che allora sarei contento quando dalla sua propria bocca mi dicesse ti rimetto tutti i tuoi peccati e Gesù benedetto che niente sa negare quando è per nostro bene una mattina mi si fece vedere e mi disse questa volta voglio fare io stesso l'ufficio di confessore e tu confesserai a me tutte le tue colpe e nell'atto che ciò farai ti farò comprendere uno per uno i dolori che hai dato al cuore mio nell'offendermi a ciò che comprendendo tu per quanto può una creatura che cosa è il peccato prendi risoluzione che piuttosto morire che offendermi tu intanto entra nel tuo nulla e recita il confiteor io entrando in me stessa vi scorgevo tutta la mia miseria e le mie scellerataggini e dinnanzi alla sua presenza tremavo a verga a verga e mi mancava la forza di pronunciare le parole del confiteor e se il signore non avesse infuso me nuova forza col dirmi non temere se sono giudice sono ancora tuo padre coraggio andiamo avanti lì sarei rimasta senza dire neppure una parola onde dissi il confiteor tutta piena di confusione ed umiliazione e siccome mi vedevo tutta coperta delle mie colpe dando un'occhiata la più che vi scorsi che aveva fatto a fronte al nostro signore era la superbia perciò dissi signore mi accuso innanzi alla vostra presenza che ho peccato di superbia e lui avvicinati al mio cuore e metti l'orecchio e sentirai lo strazio crudele che hai fatto al mio cuore con questo peccato tutta tremando vi misi l'orecchio sopra del suo cuore adorabile ma chi può dire ciò che sentì e compresi in quell'istante specialmente dopo tanto tempo dirò solo qualche cosa inconfuso ricordo che il suo cuore batteva tanto forte che pareva che si volesse rompere il petto poi mi pareva che si facesse a brani a brani per il dolore e per il dolore stava quasi distrutto ah se avessi potuto giungerei a distruggere l'essere divino con la superbia vi do una similitudine per farmi capire altrimenti io non ho parole come manifestarmi immaginate un re e ai piedi di detto re un verme che sollevandosi e gonfiandosi si incomincia a credere qualche cosa e che giunge a tale audacia che sollevandosi a poco a poco giunge alla testa del re e gli vuole togliere la corona per mettersela sopra della sua testa poi lo spoglia delle sue vestimenti regali dopo lo caccia dal trono e infine cerca di ucciderlo ma quello che è più di questo verme è che lui stesso non conosce il suo essere e tanto si illude che per disfare lui non ci vuole altro che il re se lo metta sotto dei piedi e lo schiaccia e così finisce i suoi giorni cosa in vero che muove a sdegno e a compassione ed insieme a ridicolangine all'orgoglio di questo verme se ciò si potesse fare tale mi vedevo io innanzi a Dio cosa che mi riempì di tale confusione e dolore che mi sentivo rinnovare nel mio cuore lo strazio che soffriva il benedetto Gesù dopo ciò mi lasciò ed io mi sentivo tale pena e comprendevo tanto brutto questo peccato di superbia che è impossibile descriverlo quando ebbi rubinato ben bene tutto ciò in me stessa il mio buon Gesù ritornò e mi disse che seguitassi la confessione delle mie colpe ed io tutta tremando seguitei a fare l'accusa dei pensieri parole, opere, cause ed omissioni e quando mi vedeva che non potevo seguitare a fare la confessione per la pena che sentivo d'averlo tanto offeso perché avevo una chiarezza così viva innanzi a quel sole divino e specialmente perché vi scorgevo la piccolezza l'unità dell'essere mio e restavo stupita come avevo avuto tanto a dire dato che avevo preso quel coraggio di offendere un Dio così buono che nell'atto stesso che l'offendevo lui mi assisteva e mi conservava e mi alimentava e se c'aveva qualche rancore con me era il peccato che facevo che odiava sommamente perché a me mi amava immensamente bene, con tutto ciò mi scusava innanzi alla divina giustizia e tutto si occupava per togliere quel muro di divisione che aveva prodotto il peccato tra l'anima e Dio o se tutti potessero vedere chi è Dio e chi è l'anima nell'atto che si pecca tutti morirebbero di dolore e credo che il peccato verrebbe ad essere esiliato dalla terra quindi quando Gesù Benedetto vedeva che per la pena non ne potevo più si ritirava e mi lasciava bene bene per farmi comprendere il male che avevo fatto e dopo ritornava di nuovo e continuavo l'accusa delle mie colpe ma chi può dire tutto ciò che compresi a spiegare uno per uno i diversi affronti gli speciali dolori che con le mie colpe avevo regato al nostro Signore mi sento quasi impossibilità da spiegarmi eppure perché non tanto ricordo bene onde quando evi finito l'accusa che durò circa sette ore l'ammabile Gesù prese d'aspetto di Padre amorosissimo e siccome io mi trovavo sfinita di forza per il dolore molto più che vedevo che non era dolore e bastante per dolermi come si conveniva delle mie colpe lui per ricordarmi mi disse voglio supprire io per te ed applico all'anima tua il merito del dolore che ebbi nell'orto del Gezzemani questo solo posso fare la divina giustizia dopo che applicò all'anima mia il suo dolore allora mi parve di essere disposta per ricevere l'assoluzione tutta umiliata e confusa com'ero e prostrata ai piedi del Buon Padre Gesù con i raggi che tramandavano la mia mente cercavo di eccitarmi maggiormente al dolore col dire sebbene non ricordo tutto grande sommo è stato il male che ho fatto verso di voi queste potenze mie e questi sensi del corpo devono essere tante lingue come lo darvi ah invece sono state come tante vipere velenose che vi mordevano e cercavano anche di uccidermi di uccidervi ma Padre Santo perdonami non vogliate di sgacciarmi per il gran torto che ti ho fatto peccando e Gesù e tu prometti di non più peccare di sbandire dal tuo cuore ogni ombra di male che offenderebbe il tuo creatore ed io ah sì con tutto il cuore ve lo prometto voglio piuttosto mille volte morire che mai più peccare mai più mai più è Gesù ed io ti perdono ed applico all'anima tua i meriti della mia passione e voglio lavarla del mio sangue e mentre così diceva alzò la benedetta destra e pronunciò le parole dell'assoluzione precise alle parole che dice il sacerdote quando dà l'assoluzione e nell'atto che ciò faceva dalla sua mano scorreva un fiume di sangue e l'anima mia ne restava tutta inondata allora questa straordinaria questo straordinario racconto di Luisa abbiamo tutti quanti capito che è una confessione un po' straordinaria ma non ci stancheremo mai di ripetere abbastanza che questo straordinario contiene ammaestramenti immensi per il nostro ordinario quindi per il nostro senso del peccato per le nostre confessioni e ci mediteremo adesso insieme lo straordinario ha questo di effetto particolare che lascia una tale impressione di queste cose nell'anima quindi uno veramente non si dimentica più mentre l'ordinario che si produce in noi anche attraverso la meditazione che stiamo facendo lascia degli effetti meno profondi meno vivi per cui senza una particolare cura e attenzione da parte nostra possono facilmente andare evanescendo svaporandosi potremmo dire e quindi non produrre gli effetti salutari che hanno l'occasione di questa era vedete questa è una delle prove di autenticità profonda del cammino interiore Luisa sente profonda la coscienza di essere peccatrice e il desiderio di essere davvero perdonata e chiede il dono qui dobbiamo subito chiederci quante volte l'abbiamo chiesto noi del dolore profondo dei peccati cioè della contrizione è questa diciamo l'occasione che poi spinge Gesù a proporle questa confessione molto sui generis è che adesso li percorreremo ripeto traendone motivi di edificazione per la nostra pochezza Gesù le dice ti farò comprendere uno per uno i dolori che hai dato al cuore mio nell'offendermi quindi la prima cosa che dobbiamo sempre ricordare è che il peccato fa un male orribile a noi e al prossimo orribile ma fa male anzitutto al cuore di Gesù il suo cuore batteva tanto forte che pareva che si volesse rompere il petto poi mi parve che si facesse a brani e brani per il dolore stava quasi distrutto queste non sono immagini metaforiche queste sono immagini reali e attenzione Luisa si è fatta una confessione di sette ore ha detto lei sette ore mi è capitato di sentire confessioni generali molto lunghe anche di un paio d'ore non oso immaginare cosa possa accadere in sette ore di confessione e non credo che Luisa fosse una grande peccatrice una bestemmiatrice una fornicatrice una sacrilega una irriverente che ne era buona in ginocchiasse davanti al santissimo sacramento una disertatrice della messa domenicale festiva sto dicendo non tanto le cose una che usava il turpiloquio nel parlare o che abusava dell'alcol o che fumava le sigarette o che si prendeva qualche droga o che aveva abortito o o che aveva votato le ginico insomma o che era andata dai maghi dagli stregoni dai cartomanti dai chiromanti o che aveva giurato il falso sto facendo una piccola che vedeva la pornografia insomma o che aveva fatto Chirosa Quarattin Puro solitario in compagnia insomma ho fatto una breve rassegna simbolica di alcuni diffusi peccati mortali ma io personalmente ho molti dubbi che Luisa da quanto si conosce della sua biografia avesse questo retroterra alle spalle eppure con quello che ha confessato a cominciare dalla superbia su cui adesso ne vedremo un po' ha detto che ha fatto il cuore di Gesù a pezzi a brani a brani e per il dolore stava quasi distrutto proviamo a pensare cosa possano fare al cuore di Gesù peccati come quelli che ho appena menzionato tutti i mortali quelli che ho detto insomma durante questa breve carrellata i mortali nel senso sono tutti quanti gravi e quindi se commessi con piena avvertenza e deliberato consenso sono peccati mortali e quindi nel regno della divina volontà che so bisogna mettersero bene in testa il peccato e il vizio la superbia è il primo dei sette vizi capitali non c'è però fuori del regno della divina volontà questa roba c'è e come per cui il primo grande passo per questo vi ho fatto innumerevoli catechesi sulla confessione generale innumerevoli non esiste nessun cammino di conversione di santità degno di questo nome nessuno se uno non ha almeno provato per quanto può a fare i conti con i propri peccati o meglio a farsi regolare i conti peccati da nostro signore gesù cristo io sono stato felice quando ho visto la prima volta che ho letto questo brano che quando gesù assolve alza la mano è grondante sangue e quel sangue bagna l'anima io l'ho detto in qualche catechesi ma lo penso e lo dico continuamente che quando il sacerdote alza la mano per l'assoluzione bisogna immaginarlo che ha in mano un aspersorio che infila dentro il costato di gesù lo impregna del suo sangue e ci bagna l'anima perché il sangue di gesù che lava i nostri peccati non c'è altro sistema se quel sangue non scende sulla nostra anima la nostra anima rimane imbrattata lordata abrutita deformata mostruosizzata se si può usare questo termine strano e l'unico modo ordinario con cui questo avviene anche in forma straordinaria perché gesù gliel'ha fatta fare con l'unica differenza che si è reso visibile a differenza dell'ordinario in cui ha nascosto il diritto il confessore è la confessione fatta bene però e la confessione fatta bene la cosa più importante della confessione fatta bene non è neanche l'accusa dei peccati se ascoltiamo bene questa meditazione è la contrizione già Gesù gli dice all'inizio per prepararla quando gli dice di recitare il confiteor a ciò che comprendendo tu per quanto può una creatura che cosa è il peccato prendi risoluzione di piuttosto morire che offendermi cose che come sappiamo i santi hanno sempre insegnato meglio la morte piuttosto che il peccato anche veniale cioè meglio la morte piuttosto che dire una bugia di scuso una bugia di scherzo sono gli esempi più comuni insomma del peccato oggettivamente lieve la morte piuttosto che dirne una se non ci sono capite non c'è nulla di tanto Gesù dice perché perché tu comprenda per quanto può una creatura che cosa è il peccato cioè il peccato è il male è il non essere si direbbe in termini filosofici è la distruzione di ogni il tentativo di distruzione di ogni forma di genere di bene e se possibile il tentativo di aggressione chiaramente questo è impossibile di essere realizzato di Dio stesso che è il bene assoluto e l'essere di per se stesso quindi per quanto possibile la creatura cioè noi non abbiamo idea della mostruosità che è il peccato anche minimo anche il giudizio temerario sul comportamento di una di una persona anche la parola oziosa anche il peccato di voi che sono cose su cui molto spesso noi ci camminiamo sopra senza troppi scrupoli ma non si fanno per nessun motivo quindi il regno della divina volontà ecco perché è tanto importante meditare su queste cose ecco stare sempre nel nostro nulla che siamo ecco e non farci facili illusioni non esiste regno della divina volontà se non si ha quanto meno questa avversione profonda è vero che noi abbiamo un sacco di debolezze e di miserie no? però appena uno dovesse prendere coscienza che ha fatto una cosa brutta agli occhi di Dio non deve pentirsi fortemente e così sarà se sta entrando o è entrato in questo regno sappiamo quando dentro questo regno ci dovessimo essere il beccato non c'è più rimane fino a quando siamo in questo nostro corpo mortale rimangono assolutamente innumerabili bus negligensis imperfezioni bus ecco sto mutuando e adattando un po' le parole dell'offettorio della messa antica innumerevoli negligenzi innumerevoli imperfezioni questo certamente contro le quali dobbiamo combattere perché l'imperfezione volontaria non abita nel regno della divina volontà quindi ci abitano quasi tutte quelle perché purtroppo le cose che ci scappano senza che riusciamo in tempo a fermarci o a rifletterci o a fare il contrario dipendono dalla nostra condizione ontologica di debolezza post peccato originale per cui questo non significa che siano invincibili significa che esige un lungo cammino un lungo sforzo un grande impegno per imparare a ridurne sempre di più il numero fino a giungere ad una sostanziale perfezione con l'assoluta perfezione è proprio soltanto di Gesù e di Maria il verso di essa dobbiamo tendere però anche se vogliamo entrare nel regno della divina volontà anche se sappiamo che raggiungere al 100% almeno se non intervengono straordinarie grazie di Dio non è possibile da parte di una creatura diversa da Gesù e da Maria in quanto contaminata dal peccato originale veniamo a dire qualcosa sulla superbia il mostro orribile l'atteggiamento dell'uomo che si fa grande davanti a Dio bellissima l'immagine molto eloquente del verme la superbia è un mostro è un mostro che dà tentacoli e rami di vario genere il superbo numero uno come si riconosce un superbo facilissimo il superbo non ricorre continuamente a Dio chiedendo il suo aiuto con umiltà e confidenza come un bimbo in braccia a sua madre il bimbo in braccia a sua madre l'immagine del bambino che Gesù fa nel Vangelo è l'antisuperbia per Antonomasi perché un bambino di per sé stesso è l'essere dipendente e non autosufficiente per Antonomasi io penso che sia anche questo uno dei motivi per cui è tanto cara a Dio la devozione alla Madonna che è una mamma prima di ogni altra cosa quindi chiedere aiuto alla Madonna quindi riconoscersi bisognosi direi appunto come di un bambino in braccia alla sua madre è un grandissimo atto di umiltà da parte nostra che già di per sé stesso è ricompensato da Dio la non autosufficienza è il contrario della superbe non vuole essere autonomi vuole essere dipendenti ecco perché l'atto più bello che si può fare nei confronti della Madonna è quello appunto del consagrarsi a lei come schiavi di amore altro che autonomo e indipendente io non voglio essere autonomo e indipendente in nulla voglio fare solo quello che vuoi tu quindi ecco quindi il superbo è un è un possessore sovrano della propria volontà umana il superbo è per antonomasia chi fa la sua volontà e non quella di Dio per antonomasia cioè decido io faccio io dispongo io orrore il superbo sta sempre a peccare sta sempre a pensare queste sono soltanto alcune suggestioni si dovrebbe stare a fare una meditazione lunga quattro ore sulla superbia sta sempre a guardare e a vogliere lo sguardo sui peccati del prossimo su cui ci ferma si sofferma ci ricama ecco osa scandalizzarsi ci fai film eccetera e non sui propri un sacerdote purtroppo lo dico per esperienza da come una persona si confessa capisce subito se ha davanti uno spirito superbo immediatamente alla terza parola che dice pure questo peccato assicuro sempre nelle vesti di sacerdote è pochissimo confessato dalle persone poi la superbia l'orgoglio la testardaggine sono manifestazioni di superbia non essere flessibili di non essere aperti a lasciarsi correggere da Dio e dai ministri di Dio lo stare sempre a difendersi a cercare le giustificazioni tutto quello che noi facciamo il pensare che siano sempre gli altri che non ci capiscono nessuno pensa io sono il giusto della situazione e gli altri sono peccatori cioè nessuno lo pensa con pensiero cosciente ma quasi tutti lo pensano questo qui quasi tutti di fatto e la superbia è difficilmente confessata perché se uno la considera è un vizio ridicolo e odioso d'accordo e allora parte subito il meccanismo di difesa che uno questo mostro non vorrebbe averlo e quindi appena si accorge che c'è qualcosa pensa ad altro e si difende per non sentire il dolore di vedersi così brutto perché se uno vede la propria superbia veramente gli prende un colpo però questa dobbiamo guardarla bene se ci sta e ci sta dappertutto perché maestri di spirito facendo un po' di ironia amara qualcuno diceva che la superbia muore circa un paio di minuti dopo rispetto alla nostra morte corporale rimane ancora un pochino sui resti mortali a imbrattarci interessante quella considerazione volgendo verso il termine di Luisa se tutti potessero vedere chi è Dio e chi è l'anima nell'atto che si pecca tutti morirebbero di dolore e credo che il peccato verrebbe ad essere esiliato dalla terra diffidiamo sempre da qualunque forma di predicazione insegnamento che minimizza o peggio tende ad annullare il senso del peccato noi non vogliamo avere il senso del peccato per cadere nella disperazione quindi per disperarci strapparci tutti i capelli o fare gesti di angoscia che non vengono da Dio ma atti di profondissima contrizione sì e nonostante questi Gesù dice a Luisa bene sei tanto pentita e stava ricevendo la grazia di un pentimento soprannaturale quindi la cosiddetta contrizione perfetta che non è cosa che possiamo darci da soli al cento per cento è una cosa che può avvenire noi solo con il concorso della grazia santificante dice nonostante questo non basta per ottenere il perdono e per soddisfare la divina giustizia dice Gesù ti devo applicare i meriti del dolore che ebbi nell'orto del Getsemani e Luisa appena compiuta questa divina operazione dice solo allora mi parve di essere disposta a ricevere la soluzione fa un atto di contrizione profonda e però Gesù continua e tu prometti di non più peccare di sbandire dal tuo cuore ogni ombra di male che potrebbe offendere il creatore il tuo creatore bello non propongo ma prometto e qui Luisa pronuncia la parola che tutti dovremmo pronunciare piuttosto mille volte morire che mai più peccare mai più mai più ripeto attenzione a chiunque oggi con gli scusi insomma che siamo moderni e che la predicazione va aggiornata cosa tra l'altro vera se rettamente interpretata smette di predicare sul peccato e attenzione perché se uno legge scritti e vita dei santi per duemila anni cioè non hanno predicato altro io sto io porto il nome di un grande santo che è Leonardo da porto Maurizio e con le sue vie cruci e le sue prediche basta con le leggi non parla di altro da un buon francescano che qual è peccati 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 e contrizione dei peccati voi pensate quando qualcuno anche io ho avuto modo di imbattermi in esperienze di questo genere dice ah che è sta roba tu parli solo di 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 peccati come se fosse una cosa disdicevole no ecco bisogna fare attenzione perché il clima a volte che viviamo in certi ambienti oggi non è certamente salutare perché minimizzare il peccato è soltanto fare una delle cose più grandi di male che si possa commettere perché vuol dire autorizzare una macelleria perdonatemi il termine del cuore di Gesù perché questo è minimizzare il peccato e significa anche che legalizzare il suicidio spirituale perché questo è il peccato lo legalizziamo quindi possiamo ucciderci senza nessun problema ed è anche legalizzare l'omicidio spirituale perché il peccato fa male a chi ci sta intorno e non solo ai soggetti passivi se mi si passa un termine diritto penale si dice il soggetto passivo del reato cioè io da un pugno a uno il soggetto passivo è quello che il pugno sarebbe preso ecco ma il peccato non fa male solo a chi ha preso il pugno il peccato fa male a tutti perché ridonda realmente per il principio dell'unità del genere umano su tutta l'umanità e sulla chiesa quindi un mio peccato rende più brutta la chiesa più brutta attenzione all'immagine della chiesa non la chiesa in se stessa che non può essere come Dio non può essere come dire assolutamente intaccato dal peccato così la chiesa non può essere intaccata dal peccato però come il cuore di Gesù soffre e resta stridorato da un peccato umano è così la chiesa è danneggiata e gravemente dai peccati dei suoi figli ne è ostacolata la missione le anime fanno più difficoltà ad accostarsi ad essa non c'è nessun cammino autentico nel regno della divina volontà questa è la conclusione di questa meditazione se non c'è un'acquisizione profonda del senso del peccato ed una confessione completa ben preparata pentita e fermamente risoluta a dargli un taglio di tutti i modi con cui abbiamo offeso Dio nella nostra vita passata a dargli un taglio di tutti i modi di tutti i modi o divina Maria tu ricordiamo e con la luce di questa meditazione siamo ancora nel centenario una delle ultime apparizioni di Fatima in cui assumesti un volto triste i pastorelli che stavano sempre a chiedere da parte degli altri guarisci questo guarisci quest'altro fa sto miracolo fai quello la smettano di offendere Dio che è già tanto offeso queste parole che dovrebbero trapassarci il cuore e magari ci lasciamo scivolare addosso siano veramente mutuando le parole che ti diciamo nelle cruci si impresse nel nostro cuore ecco dire le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore significa le piaghe del Signore sono state scavate dai nostri peccati e possa in noi essere sempre vivo il senso del posto la nostra confessione essere fatte bene frequentemente e bene perché non basta fare la confessione frequente bisogna farla bene altrimenti anche le confessioni frequenti Gesù lo dice nell'ora della passione o Divina Maria diventano burle diventano diventano prese in giro quando non c'è un sincero proposito di vendarsi quando la vita scorre sempre uguale senza passi avanti o senza quantomeno un grandissimo impegno nel vendarsi nel correggerci ottieneci la grazia di poter essere i nemici del nemico per antonomasia di Dio e dell'uomo che è solo al peccato Nella Divina Volontaria grazie a tutti Grazie a tutti.